Yugi a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con una decklist molto particolare poi particolare nel senso tutta la community di yugio farà questa decklist però nel senso sti cazzi guardate la mia oggi vi porto la lista tra tricks con il 3 per dello structure poi se volete la decklist competitiva fatemelo sapere qua sotto con un commento che settimana prossima ve la porto ovviamente questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor dove col codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e o prodotto sigillato e se volete recuperare questo mazzo forse è il momento giusto inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece forza will e digimon trovate il link del ministero con sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo procediamo e tanto del mazzo abbiamo parlato già fin troppo bene ragazzi io procederei con i mostri per iniziare gioco tre pudica carta incredibile perché mi serce la terreno che poi mi farà fare una normale addizionale inoltre se viene evocata specialmente posso bandire un mostro evocato specialmente dall'avversario poi abbiamo tre trappatrice mirmeleo che è la prima traptrix uscita poi e praticamente mi fa serciare una carta buco poi se viene evocata specialmente mi fa spaccare una carta magia e trappola sul terreno dell'avversario andando avanti abbiamo tre mantis praticamente questa mi fa serciare una trappatrice dal mazzo in più posso scegliere una carta magia e trappola posizionata la rimbalzo in mano e ne posiziono un'altra praticamente dopodiché andando avanti abbiamo doppia dionea che praticamente mi fa evocare specialmente una trappatrice da cimitero quindi praticamente evocate lei e ban evocate lei spacca magia e trappola diciamo potete fare un po di cosine belle in più mi fa settare una carta buco però bandisce la durante la fine del prossimo turno quindi praticamente va in combo con mantis che me la rimbalza in mano e quindi sfuma l'effetto di di bandirsi poi come monocopia abbiamo vesciculo che praticamente mi entra special mandando una carta trappola posizionata al cimitero inoltre se non controllo carte magia e trappola posizionate posso bandirla e posizionarne come altre traptrix che entra special abbiamo arancio campa che praticamente diciamo l'effetto forte se controllo una traptrix posso evocarla specialmente l'unica cosa mi locca per insetto e pianta e per concludere come ultima trappolatrice che è un aggiunto dell'ultimo minuto è praticamente genelisea non l'ho testata abbastanza cioè mi piace l'effetto ma vederla così all'inizio subito o c'è la mano giusta o ci fai poco nel senso la linki la exizi solo perché la fai come norma l'addizionale se c'è la terreno e se te serve nel pratico oppure non c'è niente la evochi linki ci fai subito sera diciamo ce l'ho messa perché posso offrirla come tributo e posizionare un buco da cimitero e un buco da mazzo quindi praticamente mi da due settate gratis come ultimi mostri poi vabbè mi sembra abbastanza scontato visto che il mazzo le fornisce e play set the ash come entra allora premetto una cosa questo mazzo è un going first perché tanto devi partire subito aggressivo con sera 75 il pratico sera rafflesia o sera e sti cazzi però nel pratico non puoi partire sempre primo quindi diciamo che l'ho bildato going second non del tutto però diciamo c'è la possibilità di partire per secondo anzi considerando alcune carte che vedremo dopo con gli conviene andando avanti con le carte magie abbiamo il play set della terreno fortissima perché mi dà la normale addizionale in più c'è anche l'effetto che la prima volta che un mostro pianto insetto sta per essere distrutto in battaglia non viene distrutto e diciamo che è utile perché comunque sera è piccola come carta e ci vuole poco a fare la salta per aria con questa inizia a essere più difficoltoso soprattutto perché dopo c'hai anche delle settate che proteggono andando avanti abbiamo sintonia trappolatrice carta che senza senso più che altro perché scarto un insetto pianta di livello quattro o una trappola normale e pesco due senza senso in più mi permette di riciclare le risorse perché posso bandirla e selezionare un insetto pianta livello quattro o una trappola normale e metterla in fondo al deck diciamo c'è fai poco però nel pratico te riciclare le risorse che a un certo punto finisco quelle carte che sono un poco in second sono i due regechi e lo spolverino volevo mettere anche il terzo per essere proprio cancerogeno non mi vado a giocare a 41 semplice non c'è non c'è altro motivo poi vabbè se vogliamo concludere parto con in second queste tre scontri ad armi pari e e passa la paura nel pratico poi come finte trappole ma mostri abbiamo i due cavalieri fantasma dell'ombra brigantina e due trappolatrice bicolutea che vabbè lui diventa mostro e posso attivarla tranquillamente il primo turno se non ho trappola cimitero quindi tu parti male già questo è il mostro che ti serve poi abbiamo bicolutea che praticamente fa la stessa cosa cartando però una trappola normale in più posso bannarla da cimitero per evocare una trappolatrice che non sarebbe male alla fine perché considerate voi avete lei attivi lei scartando trappola normale che facciamo è questo buco poi vabbè c'è il mostro linki dopo e ci fai sera evochi lei attivi l'effetto posizioni da cimitero e da mazzo poi parte l'effetto di sera che ti fa posizionare un altro perché ti fa l'effetto di trap tricks che alla fine non è male ti ritrovi con sera e con tre settate avendo utilizzato una due e la trappola che avete scartato lei considerate poi che avete anche l'effetto di da cimitero che la potete bannare ed evocare un trap tricks quindi anche più avanti se avete pudica o c'avete mirmelèo o c'avete dionea il vantaggio ve lo fate poi come altre trappole abbiamo il reparto buchi che sono vabbè la trappola dello scavatombe troppo forte perché se parte un effetto da tipo mano cimitero neghi e l'avversario perde 2000 considerando che adesso parte tutto dalla mano e up poi nel senso poi abbiamo due buco trappola chiusa che setta praticamente molto bellina e se non sbaglio posso farla anche sulla cash tira che che mi blocca le zone perché poi questa non bersaglia neanche poi come ultime due abbiamo buco trappola terrificante e il nightmare trappola almeno per avere i buchi per ogni venienza volevo mettere un senza fine ma vabbè attualmente c'ha poco senso allora per quanto riguarda invece l'extra penso che questo sia l'unica volta in cui dovete giocare quasi tutto in play set perché avete una roba come tipo boh sei carte di extra quindi è un po a vostra scelta diciamo che però la must staple è tipo sera in play set assolutamente poi io ho fatto come altri link 2 di apitus praticamente pompa tutti trappolatrice se c'è una carta trappola normale al cimitero in più nega gli effetti dei mostri dell'avversario considerando quanti mostri pianto insetto sul terreno in più posso bandire una carta trappola normale dal cimitero e spaccare uno dei mostri a cui è stato negato l'effetto e per concludere come altre due carte vabbè doppia cularia che praticamente mi reborn in end e mi fa risettare i buchi allora per quanto riguarda gli xyz ho giocato 3 pinguicola che praticamente mi fa sarciare una trap tricks inoltre sono più mostri di proprietà dell'avversario vengono mandati al cimitero o banditi per l'effetto di una carta posso attaccare uno di quei mostri come materiale a questa carta e non è assolutamente scontato poi abbiamo due rafflesia per tirare i buchi a caso e per concludere tre allumerus che praticamente staccando due mi fa evocare una trap tricks specialmente da cimitero mentre staccando uno se uno più mostri vengono mandati al cimitero o banditi per l'effetto di una mia carta posso evocare specialmente uno di quei mostri ovviamente sul mio terreno bene ragazzi con oggi abbiamo finito però vi propongo una sfida se vedo un enorme supporto sotto questo video domani faccio uscire la deck list competitiva e settimana prossima video loro sulle trap tricks fatemi sapere detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti